Ciao ragazzi oggi siamo nuovamente su FIFA 15 nelle prove d'abilità sezione tiri non vedo spessissimo questo genere di video e quindi voglio provarci io ragazzi e andiamo subito a fare tiri bronzo vai proviamo questa qui il primo è con Pogba e ditemi subito nei commenti se vi può piacere se vi può piacere appunto questo genere di video dagli è così anche perché poi perfetto iniziamo subito con i tiri a banana dai così Pogba ole questo qui ragazzi provate anche voi a casa a cimentarvi magari postate i vostri risultati vediamo un po' di fare qualche challenge tutte quante tra di noi anche perché poi perfetto un'altra ciabattata come faccio a sbagliare queste cose ci sei quasi devo rifarlo ma no dai continuiamo come vedete io ho tra gli amici un po' Wanya Black tutti questi qui no il primo chi è? ah Wanya Black secondo Beastar poi Brazzo dai è così vedete che quasi nessuno fa questi training secondo me è veramente molto molto divertente potremmo sfidarci anche con gli Illuminati Crew dai è così tira sta botta 908 punti ecco la rovesciata dentro anche quello non mi era accorto che erano bloccati dai è così sopra quasi quasi c'era la magia la e tira sta che cavolo go sbagliato perché ogni tanto sotto eh ospira sopra go tira sopra bassa sinistra faccio abbastanza schifo eh dai così sotto ole questo sicuramente lo dovrò rifare va beh dai sopra ole come avete visto è la prima volta che facevo questo dai era entrato quello ragazzi faccio letteralmente schifo riproviamo vai tu vabbè questo ce l'abbiamo fatto ottimo lavoro 8400 punti e siamo primi vai così continuiamo l'esercizio dai è squippata via con l'olio sotto e abbiamo perso 500 punti dai è così risultato vai riproviamo tira cavolo quasi dai un altro e adesso andano vicio ma sei una bestia e allora para questo era fora dai altro tentativo perfetto un'altra botta incredibile dai così e l'ultimo niente da fare però con 2000 dovremmo farcela così si continuiamo ragazzi ed eccoci giunti alla sfida finale sempre con mario manzukic vediamo un po in cosa consiste allora perfetto avviciniamoci tira e il primo è dentro finalmente sì anche l'altro 2000 punti ciao questo come faccio se non ci credo non ci credo anche quello dentro 6500 questo invece un po più qui la ruota che gira e ma eccola che cavolo qui cosa c'è non ci credo i cosi il palo sì ho preso anche la bottiglietta perché ho tirato sotto il palo di nuovo 11500 punti bel lavoro sono riuscito a fare il risultato di ragazzi un ottimo risultato direi ho fatto abbastanza schifo però io sfido anche voi provate a fare questi training perché sono veramente stra divertenti adesso che abbiamo completato la prova di abilità dei tiri semplici andiamo nei tiri avanzati sempre con manzukic vediamo un po in cosa consiste allora andiamo qui perfetto ottimo ottimo 4500 punti solo così e andiamo 5500 tentativo sì ce l'abbiamo fatta eccellente avanti così a primi no riparare l'esercizio no continuiamo tiri avanzati arciando con le spara palle proprio tiro e il primo è dentro 10 tiri 10 tentativi fai così uh traversa traversa bel lavoro dai il risultato di ragazzi continuiamo poi andremo a rifinire tutto quanto ma voglio farvi vedere un po' in cosa consiste questo training dai ottimo ci sei quasi dai con l'ultimo niente abbiamo 20 secondi ancora riusciamo a fare tutto quanto raga oh le ottimo lavoro abbiamo completato anche questa sfida vai così di testo la traversa adesso il pezzo sopra no se entrava quella ok anche 15.777 direi eccellente continuiamo sfida finale dai che ci siamo anche qua vai con l'ottimo tiro parata 200 punti comunque portati in saccoccia ecco sta niente da fare perfetto tu passale in mezzo e tu la sbagli perfetto vai con tutti sti passaggini che facciamo punti niente da fare 1600 punti dai che ubriachiamo gli avversari raga eccoli qui perfetto e adesso tira perfetto non è successo nulla ragazzi e il primo gol è dentro finalmente e anche l'altro no di qua perfetto tu da solo tira pogba dai mazuki c'è segna 10.700 vai niente da fare 10.900 perfetto 12.000 abbiamo altri due minuti si 15.000 punti qua ragazzi si fanno ad occhi chiusi anche se sbagliate così tanto come faccio io e morata segna 17.000 punti fatti veramente ragazzi una cavolata è sta challenge finale in confronto a quella di prima non lo so e il tempo finisce qua bel lavoro 17.471 ho fatto letteralmente schifo ragazzi però anche questo tiri avanzati è stato fatto poi avremo le punizioni i rigori io direi che questo video è durato anche fin troppo non so nemmeno io quanto sia durato ragazzi sono qui da veramente parecchio tempo perché sono abbastanza scarso in queste cose qui con calma cercherò di migliorare sempre di più ditemi se questi video vi possono entusiasmare piacere non lo so è un video diverso dal solito scrivetemi tutto quello che volete sotto nei commenti qua da Bistar per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.